Ciao a tutti e tutte, io sono Martina e sono in compagnia di Luca Galizia in arte generic animal. Ciao Luca, come stai? Ciao Martina, ciao a tutti. Tutto bene, da Dio dai, sono qua, è una bomba. Dai, sì, è il primo giorno dello Sherwood Festival 2023 e allora volevo iniziare con una domanda riguardo al tuo ultimo EP, Mondo Rosso, che sembra essere quasi una fotografia delle ultime generazioni tra precarietà lavorativa, instabilità emotiva, cambiamento climatico. Volevo chiederti quale pensi possa essere il ruolo di un artista nel parlare di queste tematiche e se c'è un pubblico o comunque una persona o diciamo un target a cui vuoi arrivare in particolare? Una bella domanda, secondo me la cosa che mi colpisce di più di solito è la verità, no? Cioè tipo quando un artista o quando un artista che seguo, quando una canzone, qualcosa anche attraverso delle immagini un po' sfocate riesce a dipingere una cosa proprio legata alla realtà. In questo caso io volevo parlare di quello che vedo intorno e vedo intorno molto lontano e vedo un intorno molto vicino e quindi ho usato delle metafore che piacevano a me inventandole io e è difficile trovare un target, una generazione. Penso che tipo, non lo so, c'è una specie di non lo so, possiamo tutti essere connessi dai 25 anni ai 40 anni, possiamo tutti pensare di avere la stessa età e poi magari sotto tipo le generazioni, le ultime generazioni, so dal 2000 a in su, penso che stanno già vivendo in un altro momento, quindi è molto difficile trovare, cioè trovare un modo ingaggiante per parlare di argomenti tematiche, serie e vere e di crisi e di cose che vanno bene, che vanno male nella maniera in cui vorrebbero le altre persone. Quindi non lo so, è molto una domanda difficile a cui non penso spesso in realtà, cerco solo di farlo nella maniera in cui vorrei sentirlo fare, però senza elogiarmi, senza dire ah, in modo giusto lo faccio e basta, quindi boh. Ok, i tuoi progetti si sono sempre distinti oltre diciamo al fatto che è abbastanza difficile incasellarti in un genere musicale, anche per aver portato all'interno dei tuoi album dei personaggi o comunque dei pupazzi che sono un po' grotteschi, tipo ad esempio uno degli ultimi è stato l'uccello, quello di Benevolent, e l'ultimo invece è un gigante che ritroviamo sia nella copertina del tuo ultimo EP, ma anche nel video di Rosso. Volevo chiederti che cosa simboleggia? Beh, è un po', diciamo che era non in modo troppo espresso, però in realtà è tutto un po' una fiaba intorno all'EP, c'è questo gigante, è l'ultimo, non so come dire, l'ultimo uomo rimasto sulla terra, è un super uomo, quindi un uomo che ha assorbito tutto, è riuscito ad andare oltretutto, però è diventato un gigante ed è rimasto da solo sulla terra, e quindi non so come dire, assorbe tutto il bene e il male, ma alla fine assorbe tutta l'energia del mondo, quindi scalda il mondo, quindi è un po' una cosa che ho provato, cioè non lo so, ho pensato semplicemente a quanto più caldo sarebbe il mondo se ci fosse un uomo gigante sdraiato sopra che lo scalda con il suo essere bolso e ammalato, quindi quella era un po' la cosa. E poi boh, mi piaceva, basta. Ho cominciato da un disegno e poi ci ho scritto una cosa intorno e è rimasto lì. Ok, ora spostandoci sulla tematica, diciamo parlando sempre di genere musicale, ecco tu nel 2017 cavalchi un po' l'onda emotiva dell'indie pop italiano, volevo chiederti che cosa è cambiato nel frattempo e con cosa fai i conti come artista in questo 2023? Beh, faccio i conti col fatto che ho cavalcato una cosa che non sapevo neanche esistesse, nel senso che io fino al 2017 ho sempre avuto band, sempre suonato in band emo, punk rock, cose così, quindi sono arrivato in un momento in cui probabilmente era giusto esistere da quel momento lì, però mi sono accollato anche l'esistenza di cose che non mi appartenevano. Quindi in linea di massima sto semplicemente vivendo un'evoluzione molto solitaria, quindi sto andando avanti facendo quello che ho voglia di fare e sto vedendo invece delle cose nei generi appunto che hanno tracciato un po' l'inizio di una moda, vedo delle cose nuove comparire e vecchie scomparire, per fortuna, per sfortuna, ci sono tante cose che sono rimaste che mi piacciono, anche di me stesso, di quando ho cominciato, delle altre che invece sono andate avanti e sono cambiate, quindi non lo so. In realtà ho avuto un inizio molto precoce, nel senso ho fatto due dischi, quando sono uscito il primo anno ho fatto uscire due dischi e il secondo ha un po' bruciato l'ombra dell'altro e questa cosa mi ha aiutato molto in realtà, è stato non uno sbaglio ma una specie di passo falso che mi ha aiutato un po' a orientarmi meglio andando avanti e niente, quindi sono sul tetto delle mie possibilità in questo momento, sto relativamente bene e male, come tutti, quindi faccio solo quello che voglio. Ricollegandoci al fatto che secondo te ci sono delle cose vecchie che per fortuna hanno fatto una brutta fine e altre invece nuove. Secondo te la musica italiana fuori dal campo mainstream, quindi quello del circuito del tormentone pop, in che stato è secondo te? A livello proprio l'underground delle cose, secondo me c'è tanta gente brava a cui piace suonare come alle persone è sempre piaciuto suonare nella storia dell'uomo. Non lo so, a me fa molto ridere, ultimamente viene molto venduto il concetto di musica vera, musica suonata, la band, le cose. È molto figo, ma è molto normale, è sempre stato così, non vedo perché... Cioè ci sono tante cose molto normali che ora vengono molto spinte come cose rivoluzionarie e lo trovo da un lato fico e dall'altro un po' decadente, perché siamo arrivati al punto in cui una cosa normalissima è diventata tipo un miraggio, ed è sintomo di qualcosa. Però ci sono tantissime band fighe, tantissimi progetti che stanno sotto e se ne fregano di quello che sta sopra. Riuscire a connettere questi due mondi è la cosa che mi piace fare e che mi piace di più quando la vedo accadere. Infatti diciamo che la mia ultima domanda voleva vertere un po' su questo argomento perché fondamentalmente per quanto possiamo rimanere stasiati nel momento in cui vediamo una band o comunque un cantante che fa musica vera, diciamo, come tra parentesi, il fatto che comunque tu non sei facilmente catalogabile in un genere musicale con fondamentalmente un'industria musicale invece che tende sempre di più ad incasellare e a voler classificare il tutto con delle etichette. Volevo chiederti cosa ti dà la spinta per staccarti e renderti indipendente dalle richieste che magari fa un mercato e quindi da Tormento Nipop o da qualcosa di più mainstream. Un senso di sopravvivenza. Ovviamente non lo so, la forza semplicemente me lo dà il fatto che non ho, non lo so, non te lo so dire. È semplicemente molto fisiologico il modo in cui faccio le cose. Non riesco a prendere gli ordini nel senso di ordini, non riesco a scolasticizzare le cose. Ho un metodo mio che continua a cambiare, sono completamente indisciplinato e questa cosa mi crea un sacco di problemi, ma anche un sacco di motivi per continuare ad esserlo e quindi è molto difficile in realtà. E allo stesso tempo anche se mi capita di fare lavori per la manovalanza musicale la faccio perché mi piace fare musica, quindi non so, se dovessi smettere di avere il mio progetto penso che vorrei comunque lavorare con artisti, con musica, in maniera molto anche asettica quasi. Però tutto quello che riguarda le regole e il marketing e le cose, io non so cosa sono queste cose ma non so cosa farmene onestamente, quindi so come funzionano ma non c'è un modo che si intreccia a me. Ok, perfetto. Luca ti ringrazio e ti auguro un buon concerto. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.